Domenica 10 maggio 2015 allo spazio espositivo Cavuro 85 nell'omonima via nel cuore del centro storico di Arezzo stiamo registrando un servizio con lieve anticipo sulla inaugurazione ufficiale della mostra dal titolo Volarte che vede esporre cinque maestri toscani. Sono qua raccolti vicino a Daniel Villicana che è la responsabile artistica di questo spazio espositivo ovviamente che condivide col marito Maurizio che è alle sue spalle perché gerarchicamente e anche cavallerescamente ha lasciato la ribalta a Daniela. Accanto a loro c'è Lucia Raveggi che ha curato per conto di Toscana Cultura la collaborazione che ormai prosegue da tempo con lo spazio espositivo Cavuro 85 suggerendo alcuni artisti a Daniela e poi c'è Michele Foni all'altro mio fianco che introdurrà i telespettatori alla comprensione di questa mostra per quanto è possibile comprendere una mostra dai servizi televisivi. E la mostra è visitabile da martedì a sabato dalle 4 alle 8 di sera dietro appuntamento. Tutte le informazioni potete trovare sul nostro sito. Prendiamolo e magari mettiamolo anche in sovrimpezione, questo è un suggerimento che do alla nostra regista. www.villicanadanibale.com Benissimo, allora partiamo subito, ora non è possibile parlare di tutti gli artisti, non abbiamo il tempo però vorrei che lei magari ci spiegasse qual è il fil rouge, se c'è, che lega le opere e l'espressione artistica di questi cinque pittori e scultori toscani. Allora, il fil rouge c'è e si vede, diciamo naturalmente non salta gli occhi subito ma analizzando questi autori si scopre innanzitutto che hanno portato tutti qualcosa di molto fresco, tant'è che nella prefazione al catalogo che peraltro viene pubblicato in tre formati addirittura io ho parlato di acqua sorgiva, riferendomi proprio alla freschezza degli autori gli autori direi che sono molto giovanili, indipendentemente dalle loro età si direbbe che si presenterebbero bene anche in una mostra, che dire, mittele europea piuttosto che internazionale in effetti lo sono perché una di loro è brasiliana, di San Paolo io ho detto toscani ma poi ovviamente correggerò il tiro perché sono toscani di origine alcuni e di adozione altre esattamente, comunque ruotano intorno alla Toscana, c'è mai la Stolfi che è di Prato Anna Maria Veccia che pur essendo nata a Roma è un po' cittadina del mondo ha vissuto a Venezia, ha vissuto e adesso vive a Sansepolcro quindi non ha scelto male direi di sì, poi c'è Cristiana Cravanzola che è di Alba Rino Giannini che è di Pietrasanta e Silvia Lev che è la nostra presenza internazionale di San Paolo del Brasile questa acqua sorgiva si esprime come invitando chiunque passasse di qui a fare delle considerazioni ne faccio subito un'altra sicuramente questi autori hanno in comune per esempio il fatto che sono epigrammatici e mi spiego tutti loro cercano di analizzare delle emozioni, dei sentimenti qualcuno di loro proprio puramente delle visioni tant'è che si direbbe che li ho semplificati nel mio testo introduttivo con poche parole mi permetto di dirle, rubo solo qualche istante Maela Stolfi l'ho definita come una pittrice che descrive universi paralleli lei descrive muri da cui sembra staccato l'intonaco e che lasciano intravedere delle immagini ci si trova come adagiati in un giardino e si vedono delle immagini bellissime peraltro che vengono lasciate all'interpretazione di chi guarda Anna Maria Veccia è il ricordo il ricordo perché anche lei e anche qui riconfermo la parola epigrammatica non descrive mirabolanti, circonvoluzioni o storie incredibili descrive momenti, tramonti, emozioni le visioni possono appartenere a tutti noi perché non sono così precise ma come dire, fanno vibrare le corde più sensibili del nostro cuore Cristiana Cravanzola descrive con la pietra e qui cominciamo ecco siamo passati dalla pittura alla scultura facciamo un piccolo inciso esattamente descrive con la pietra degli elementi anche di design però avvalora il design perché su questo design lei porta delle mani dei particolari che più spesso ci passerebbero inosservati in questo c'è la grandezza dell'artista che ci fa vedere come per esempio la mano di una persona lei in particolare ne ha descritti addirittura di se stessa, della figlia insomma la mano di una persona è qualcosa di personalissimo qualcosa che descrive l'animo di una persona e quindi ha la capacità di farci vedere tramite un elemento di design un qualcosa che è autenticamente artistico poi abbiamo Rino Giannini io devo dire che è onora non solo me che lo presento ma onora tutti gli altri artisti perché qui abbiamo un artista veramente di fama internazionale che tra l'altro ha al suo attivo la capacità di essere stato l'insegnante di gran parte e questo lo ha fatto in accademia l'insegnante di gran parte di quelli che oggi sono gli insegnanti nelle accademie d'Italia e non è un caso perché lui ha lavorato il marmo lo ha fatto in terre che sono del marmo proveniente da Pietrasanta e lo ha fatto ad altissimi livelli la sua scultura forse rispetto agli altri è quella un pochino più complessa però anche lui pur con citazioni dei grandi maestri del Novecento e citazioni di alcuni elementi che possono sembrare di un certo tipo neoclassici anche lui descrive delle emozioni e che si parli di una nave fenicia o di una figura quasi mitologica ci ricorda con queste emozioni la storia che possiamo conoscere o non conoscere però ne rimaniamo folgorati infine c'è Silvia Lev che è nata a San Paolo del Brasile però ha lavorato anche in Europa ha studiato anche in Europa e per lei ho utilizzato la parola sogno mi fa piacere ripeterlo anche adesso perché il suo marmo è lavorato come se fossero delle nuvolette come se fossero delle apparizioni notturne e sono sempre sogno mai incubo ci tengo a precisarlo perché hanno sempre a che fare con qualcosa di positivo sono morbide lei conosce bene il materiale che lavora e lo lavora con una morbidezza tale che sembra di trovarsi di fronte a un panneggio candido di Bucato spero di aver detto parole che abbiano l'usingato veramente un applauso Michele Foni per questa brillante presentazione che ha rispettato i tempi che avevano dato allora professor Giannini cosa possiamo aggiungere sarebbe molto alto da aggiungere sulle vostre carriere però abbiamo pochissimo tempo solo per un telegramma per i nostri telespettatori diciamo che io un armista nato madonnaro da giovane eccetera ho fatto un mucchio di copia anche del Davide di Michelangelo ho scelto le terricotte cose che ho fatto qualche anno fa dove il mio gesto è più esplicito praticamente il marmo diventa più metafisico perché ha bisogno di di lavorare con una certa una certa cognizione con certi strumenti certe cose mentre nella creta che poi si può cocere la mano resta più viva anzi ho scelto proprio delle cose dove il mio segno e anche il mio incidente che cerco sia nel colore che nella forma diventa un fattore ispirativo per me grazie professore la Mayla Stolfi è ben conosciuta ai nostri telespettatori l'abbiamo seguita proprio dagli albori dal suo ingresso nel mondo dell'arte a piccoli passi si è creato uno spazio molto importante con mostre prima alla Firenze Arte di Miranda May poi alle giubbe rosse ora è entrata nel gruppo Casa di Dante nel gruppo Donatello e quindi ora sei arrivata a Rezzo un'altra tappa importante nella tua crescita artistica si che dire niente io nelle mie selle cerco di di trasmettere un po' l'entusiasmo che tu hai nella vita ecco basta bene allora Anna Maria Veccia è nata a Roma ha girovagato in altre bellissime città della nostra penisola poi ha scelto Sansepolcro come il suo Buen Retiro si certo vivo da Sansepolcro da 19 anni e li lavoro e comunque giro molto per le mostre e in questi giri si è arrivata a Rezzo quindi a due passi da casa però a due passi anche da Piero della Francesca come no è il nostro grande pittore quattrocentesca va bene grazie grazie allora la signora Lev è di origine brasiliana ma anche lei ha scelto di lavorare a Pietrasanta si lavora a Pietrasanta vivo in Italia dal 90 dal 1990 io penso che il Siorfoni è riuscito a interpretare le mie opere molto bene e penso che non più di così ora basta solo di venire a vederlo da parte di noi di vederle le sue sculture al pari delle altre opere esposte anche lei è nata in Piemonte però ha sentito il richiamo del marmo e quindi si è avvicinata a Michelangelo alle cave esattamente infatti la cultura toscana che poi è importante nella nostra cultura italiana mi ha sempre affascinata mi sono avvicinata al marmo mi ha incuriosito e per ora sfrutterò il filone mi piace molto bene grazie a tutti per la sintesi e vorrei concludere vorrei però che alle spalle di Daniel ci fosse ancora oltre a Maurizio D'Annibale e anche Lucia Raveggi che ringraziamo perché a nome di Toscana Cultura ha ormai tiene rapporti quotidianamente con lo spazio espositivo Cavour 85 e quindi merita anche lei un bel ringraziamento anzi se si facesse vedere ricordiamo che la sede di Toscana Cultura è aperta tutti i giorni ci sarà Lucia insieme a Chiara dalle 9 alle 12 e chi vorrà informazioni sui tanti eventi che noi seguiamo con l'emittente in tutta la Toscana potrà telefonare oppure presentarsi direttamente e cercheremo nei limiti di venire incontro a tutti come facciamo nei confronti di chi ci chiede collaborazione prima di concludere ricordiamo il catalogo quando verrà presentato così potrebbe essere un'occasione per i nostri telespettatori di venire ad Arezzo Sì noi per questa mostra non facciamo un finissage giusto per il motivo che gli artisti tutti vengono da lontano è una delle cose che siamo veramente fiera di questa mostra perché c'è stata un'enorme collaborazione anche io ho scritto nella presentazione la cosa che mi piace di più è l'esperienza di mettere insieme nuove persone che non si conoscono tra i scultori e i spiriti per Arezzo è una novità assoluta questa mostra è una novità in assoluta si voleva portare qualità sia pittura sia scultura e di poter anche fare collaborazione con Toscana tuttora è una cosa bellissima allora invitiamo i telespettatori a venire a Arezzo allo spazio espositivo Cavuro 85 che si trova in via Cavuro al numero 85 ovviamente fino da oggi domenica 10 maggio fino al 23 maggio 2015 l'orario d'apertura al pubblico è dal martedì al sabato dalle 16 alle 20 negli altri giorni è necessario prendere un appuntamento i numeri i riferimenti i numeri di telefono e anche l'indirizzo mail li troverete sul sito